Ciao, sono Federico del Garden Center Florio di Pesaro. Quest'anno abbiamo completamente rivoluzionato il garden ed è arrivata la magia del Natale, un ampissimo sortimento di alberi di Natale, di tutte le misure e di tutte le tipologie, partendo dal metro e venti fino ai due metri e quaranta. Venite, venite nel Bosco Incantato. Lá in fondo abbiamo allestito il santo presepe con delle figure a grandezza naturale. Lo vedremo dopo, rimanete con me. Guarda c'è Babbo Natale che sta leggendo le vostre letterine. Mi raccomando, portategliele. Ogni weekend Babbo Natale verrà a trovarci. Abbiamo creato per l'occasione un percorso dedicato per riuscire a contingentare al meglio le persone. Si potrà entrare solamente uno alla volta, ci sarà un ingresso e un'uscita e potrete portare la letterina Babbo Natale, consegnargliela personalmente e fare una foto con lui ma a distanza di un metro. Quindi tutto nel rispetto delle regole Covid e quest'anno più che mai abbiamo bisogno insieme di vivere la magia del Natale. Ciao Babbo Natale! Ciao a tutti! Vi aspetto nella mia casetta e mi raccomando portate la letterina! Fate i buoni! Verranno a trovarci anche due bellissimi poni amici di tutti i bambini, non mancate! Ho 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 ho! Ho ho ho! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui passiamo dal freddo polare con orsi, renne, un ambiente ghiacciato, al calore della magia del Natale nella stanza degli Schiaccianoci. Questa è una stanza dove tutti i clienti che entrano rimangono veramente stupiti. La stanza degli Schiaccianoci dovevamo tantissime misure e tipologie. Sono veramente molto molto apprezzati e sempre più in voga negli ultimi anni. E poi questo caldo camino veramente crea un'atmosfera unica per poi arrivare ai fantastici bastoni di zucchero. Per decorare il vostro albero questi sono veramente perfetti. Vi mostro la nostra specialità. La serra con le piante fiorite. Abbiamo tantissimi ciclamini di prima scelta e a breve saranno disponibili anche le stere di Natale. Seguitici sui nostri social per sapere quando saranno pronte. Queste sono le lanterne scintillanti. Sono veramente molto di impatto, soprattutto al buio. Quest'anno abbiamo ampliato tantissimo l'assortimento e devo dire che già da subito stanno piacendo veramente, veramente tanto. Queste sono alcune delle nostre candele. Sono molto belle e molto particolari. Hanno al loro interno una candelina che, una volta accesa, crea un fantastico effetto retroilluminato. Possiamo accenderle tutte le sere senza rovinarle perché sono proprio fatte apposta per questo. Grazie. 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 Questi sono i nostri Christmas Village, ovvero paesaggi natalizi con luci, suoni e movimenti. Ne abbiamo davvero diverse tipologie, trenini, sciatori, piazze, mongolfiere, aeroplani. Ce ne sono veramente per tutti i gusti e hanno anche dei prezzi accessibili. Partono infatti da Euro 8, come potete vedere il più piccolino, fino ad arrivare a pezzi più grandi da collezione. Partono infatti da Euro 8, come potete vedere il più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino. Partono infatti da Euro 8, come potete vedere il più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino, più piccolino. I bambini adorano veramente tanto tutto quello che riguarda palline di neve e noi ne abbiamo un assortimento veramente molto molto ampio. Con gli aeroplanini, con le slitte, con i trenini, con gli alberi di Natale, addirittura con questi trenini particolari. E poi non poteva mancare, visto e considerato che siamo la città della bicicletta, le bici tematizzate natalizie per il Natale, che sono veramente molto belle e molto simpatiche e una fantastica idea regalo per i vostri amici. Grazie a tutti. Adesso vi lascio nelle abili mani di mio padre Franco, che è l'artista di famiglia, e vi farà vedere come lavoriamo le lanterne artigianali. Ciao a tutti, io mi occupo della parte tecnica, del designer di questa azienda e ho voluto per questo Natale, abbiamo realizzato tantissime lanterne. Diciamo, essendo in tema natalizio, quella che noi realizziamo meglio è con il presepe. Come potete vedere, c'è Giuseppe, Maria, c'è il bambino, luci colorate e rosso per dare un po' di calore a questo Natale. Le facciamo in tantissimi modi, sembrano molto illuminati. Deve trasmettere un po' di gioia, in questo momento un po' di tristezza. Vogliamo realizzare, cioè nelle vostre case vogliamo portare un po' di luce. E la lanterna penso che sia quella più indicata. Come vedete qui a fianco, poi quest'anno abbiamo lanciato un'altra iniziativa, che realizziamo le vostre lanterne che avete a casa. Ce le portate e noi le rimettiamo a posto. Ma questa cliente non la utilizzava più. Ce l'ha portata, ha scelto i nostri, diciamo, un po' di accessori. Quest'anno lei ha tematizzato la cosa sul rosa. Gli abbiamo messo anche qui luci, un gnomo che si illumina, sfere. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Quindi portate le vostre lanterne e noi le renderemo gioiose e per augurare tutti un bellissimo Natale. Gli abbiamo messo anche qui. Questo è il mio laboratorio idee. È un'area che ci tengo in modo particolare. È un'area, diciamo, qui parliamo del giardino per tematizzare un giardino natalizio. Qui ho delle sfere di ligustro che io ho messo con delle luci, che abbiamo un bel assortimento di luci LED per esterno e sono semplicissime. Costo bassissimo, parliamo di 3 euro per tutta questa luce che abbiamo messo qui sopra. Gli gnomi colorati. Abbiamo fatto il balcone sempre in tema natalizio. Ho inserito, diciamo, degli orsi, dei babbi natali, delle lucine anche qui. Si può fare con pochissimo. Si spende pochissimo con delle luci che hanno un 3,50 euro di costo. Ma riusciamo a dare un po' di calore. La luce è importante, specialmente su questo Natale qui. E ne ho diversi modelli. L'abbiamo fatto di diversi tipi. Vediamo con un albero in legno, con lo gnomo, questo qui rosso, che è molto bello anche lo gnomo. Ce ne sono di tutti i tipi. Questo laboratorio rimarrà aperto fino al 24 dicembre. Io ogni giorno farò cose diverse. Quindi un cliente, quando arriva, siamo proprio all'ingresso del garden, troverà delle idee e le potrà personalizzare a suo modo. Possiamo scegliere insieme come farlo. Ma l'importante è dare colore al nostro terrazzo con un tema natalizio. Ecco il nostro presepe con figure a grandezza naturale. È veramente bellissimo. Vi consiglio di venire a vederlo e venirci a trovare. Vi aspetto qui da Garden Center Florio, a Pesaro, in via Lombardia, zona via Toscana. Siamo aperti sempre. Tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici. E attenzione, copritevi bene, perché potrebbe nevicare. Tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici.